Amici di Radio 675, benvenuti. Io mi chiamo Matteo Salvetti e mi occuperò personalmente di football, come si dice in Inghilterra. Parlerò del nostro campionato, soprattutto del campionato di Serie A, che dopo tre mesi di inattività finalmente è ricominciato. La colonna sonora attribuita da Sky è stata la nuova canzone, quella che ha fatto un grande successo durante la nostra estate, di Benji e Fede, che si intitola Dove e Quando. Proprio perché noi aspettavamo ininterrottamente questo momento, il momento in cui tutto ricomincia, il momento in cui si riaprono le ostilità è il momento in cui tutti i tifosi si riuniscono al bar, a casa, ovunque, per assistere all'apertura delle danze, delle danze calcistiche del nostro campionato, il campionato di Serie A. E allora andiamo a dare un'occhiata a quello che è successo durante la prima giornata. Tutto è cominciato con Parma-Juventus, l'anticipo delle ore 18, la Juventus di Martuscello, perché ricordiamo che Sarri, a causa di una polmonite, non è potuto scendere in panchina. La Juventus di Martuscello, stavo dicendo che è riuscita a vincere su un campo ostile come quello di Parma, grazie ad un gol di Giorgio Chiellini, che ha permesso ai bianconeri di ottenere i primi tre punti stagionali. Pochi minuti dopo, precisamente alle 20.45, è stata la volta del Napoli di Carlo Ancelotti, che doveva rispondere presente in ogni modo. E ce l'ha fatta, è riuscita a conquistare tre punti contro una Fiorentina bella, magnifica, diciamo così, una partita giocata su ritmi puramente britannici, macchiata da quella ingenuità, da quell'errore clamoroso che ha portato al calcio di rigore assegnato al Napoli, perché nei replay si vede platealmente il tuffo di Dries Mertens, ma fatto sta che la prestazione rimane e allora abbiamo visto sabato sera una gara illustre. Una gara che però ha strizzato l'occhio agli ospiti, al Napoli di Carlo Ancelotti, che è riuscito a vincere per 4-3, raggiungendo la Juventus a 4-3 punti. La domenica si apre poi con il capitombolo del Milan di Giampaolo. Milan trafitto 1-0 sul campo dell'Udinese, Giampaolo che ai microfoni di Sky in termine della sfida si è visto abbastanza deluso e, come dire, improntato anche su una serie di errori commessi da lui stesso che non hanno di certo agevolato il gioco e la manovra del Milan. E poi parte lo show. Parte lo show perché alle 20.45 si giocano le altre sfide. Sfide, come ho detto prima, caratterizzate quasi da una macchia britannica che per una giornata si è, come dire, allargata sul campionato di Serie A. Partiamo dal 3-3 della Nuova Roma di Fonseca contro il Genova di Andrea Zoli, giallorossi in vantaggio per tre volte, ma poi rimontati dal Genova. Abbiamo visto il colpo dell'Atalanta che riesce a rimontare la Spal, Spal che vinceva 2-0, poi è stata sconfitta per 3-2 dagli uomini di Gasperini. Oppure il, come dire, la sconfitta inaspettata del Cagliari, del nuovo Cagliari, quello di Nandez, di Nainggolan, che è uscito sconfitto per 1-0 dal Brescia. Altre gare, altre gare come la vittoria importante della Lazio sul campo della Sampdoria, la nuova Sampdoria di Di Francesco. Oppure andremo a vedere anche più avanti poi la partita più importante. Quella, per quanto riguarda la competizione europea del Torino, il Torino che doveva rispondere dopo la sconfitta patita contro il Wolverhampton. Torino-Sassuolo, finita 2-1, i padroni di casa riescono agevolmente a battere un Sassuolo non fantastico sul piano del gioco. E il Torino che si appresta anche ad andare a Wolverhampton nella Tana dei Lupi per provare una rimonta che ad oggi sembra assai improbabile. Ieri sera, invece, è stata la volta dell'Inter. L'Inter, la nuova Inter di Antonio Conte, che risponde presente a Napoli e Juventus, battendo per 4-0 il Lecce. Un Lecce buono, dobbiamo dirlo, sotto il piano del gioco. La squadra di Liverani ci ha approvato, però l'Inter è più forte e l'Inter ha dimostrato quest'anno di potersela giocare contro tutto e contro tutti. Poi c'è l'aspetto più importante della prima giornata, la cornice che viene gestita dalla figura di Sinisa Mijailovic. Sinisa Mijailovic che è un lottatore che si è presentato sulla panchina del Bologna dopo aver concluso il primo ciclo di chemioterapie per quel brutto male che l'ha attaccato. Ma Sinisa Mijailovic che non ha dimostrato di essere un allenatore, ha dimostrato di essere un vero uomo. Il suo Bologna, ricordiamo, ha pareggiato 1-1 sul campo del Verona, ma il risultato, in questo caso, secondo me non conta. Dobbiamo guardare la figura di questo allenatore, di questa grande persona, perché Sinisa Mijailovic lotta, sogna e soprattutto cerca di sconfiggere un male che molto spesso si trova e penetra anche nella nostra mentalità. E ancora oggi sono tanti i casi di leucemie aggressive che attaccano, che non lasciano scampo. Però Sinisa Mijailovic ci ha dimostrato che nella vita bisogna sempre combattere, per tutto e per tutti. Non bisogna mai, mai, mai arrendersi. Credo che questo sia il messaggio più importante, sponsorizzato anche dal forte applauso che il popolo del Bentegodi ha rivolto all'allenatore del Bologna. Questo sicuramente è l'aspetto, è la scena che tutti noi porteremo nel cuore quando penseremo alla prima giornata del campionato di Serie A. Anche perché c'è la prima giornata e c'è il resto del campionato. E allora io vi consiglio di rimanere sempre sintonizzati su Radio 675 e di guardare anche la web tv di questa fantastica famiglia perché presto ci saranno novità, soprattutto anche perché nella seconda giornata domineranno i big match Juve-Napoli e Lazio-Roma. Ci sentiamo prestissimo ragazzi, ciao!